Stanchi di fare il bucato in casa? Da oggi fatelo con un dito nel punto self-service LavaPiù di Bancole. I tuoi capi saranno cullati dalle moderne macchine Miele, con carico da 7 a 13 kg. Servizio di asciugatura in 20 minuti e da noi il detersivo. È compreso nel prezzo. Risparmi a tempo e denaro con LavaPiù. Ci trovi a Bancole di Porto Mantovano, in piazza della Resistenza, zona piscine.